oggi ragazzi sono veramente sconvolto per la partita veramente un 3 a 0 complimenti a tutti infatti oggi darò dei voti altissimi perché veramente una grandissima partita la voglia la grinta veramente bravi tutti veramente bravo conte cominciamo con conte che gli do 8 oggi perché veramente ritirare sulla squadra dopo una sconfitta per 3 a 0 cazzo veramente fantastici oggi 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 veramente do voti alti a tutti allora meretti chito 6 perché non ha fatto granché buongiorno per me 7 ramani 7 veramente bravissimo di lorenzo 7 e mezzo perché ha fatto gol e ha fatto una grandissima azione veramente pazzesco mazzocchi fa il suo 6 e mezzo bravissimo anghissa forse il punto debole del centrocampo chito 6 oggi ho visto il lobotka veramente giocare benissimo 7 anzi 7 più oliveira bravo 6 più però perché non ho visto granché politano ha fatto una grandissima partita da 7 7 più varaskelia migliore in campo bravissimo grandissimo gol 8 raspadori fa il suo bravissimo anche lui 6 però perché un po visto un po egoista purtroppo non poteva però veramente bravo all'inizio della partita fa il suo non voglio dargli più di 6 però comunque bravo spinazzola 6 simeone bravissimo entrato bene veramente bravo grande recupero palla grande fraseggio con neres che poi parleremo di neres quindi io gli do 7 simeone sono veramente soddisfatto per i pochi minuti che ha fatto neres ragazzi neres è incredibile veramente c'è entrato ha fatto ha fatto veramente un lavoro incredibile perché è entrato dopo 6 minuti già aveva fatto assist e preciso nei passaggi è veloce si infila veramente soddisfatto infatti a neres gli do 7 perché bravo veramente bravo finalmente ho visto un difensore bravo un grandissimo difensore come buongiorno veramente bravo buongiorno ragazzi ha fatto un recupero incredibile io non sono senza parole oggi mi hanno veramente sorpreso in positivo io sono sono quasi con la pelle d'oca veramente bravissimi tutti bravissimi tutti non so cosa dire sicuramente il bologna ci ha approvato vediamo un po le statistiche il bologna ci ha approvato ha fatto ha provato a fare qualcosa anzi il possesso palla era del bologna ma io il napoli ho visto una grande grinta infatti 61 per cento del bologna possesso palla 39 per cento per il napoli ma io ho visto una grinta incredibile una una corsa un sacrificio politano mi ha stupito anche lui veramente non so cosa dire veramente questo è quello che voglio non voglio il gioco spettacolare non voglio il possesso palla al 90 per cento non voglio tutti quei fraseggi ma io voglio questo voglio la sostanza voglio la grinta in campo e oggi ho visto la grinta quindi veramente un sacrificio ma anche i giocatori che si muovevano che non stavano fermi solo nelle loro posizioni veramente veramente ottimo lavoro dobbiamo continuare così e spero di continuare così adesso che arrivano McTominay, Gilmore e Lukaku perché bisogna continuare così non abbiamo bisogno di Ossiman abbiamo bisogno di questi giocatori nuovi e abbiamo bisogno della fiducia anche dei vecchi giocatori che secondo me l'hanno ritrovata soprattutto Kvaraskela che fa gol era un gol deviato sì però è stato comunque un grande gol e fa anche l'esultanza dedicata al figlio veramente veramente soddisfatto non ho nulla da dire grazie allora Grazie.